Bellezza, arte e religione. Lef Nikolaevich Talstoi. Che cos'è l'arte? Tutte le definizioni della bellezza proposte dagli estetici fanno capo a due principi opposti. Il primo è che la bellezza è cosa esistente di per sé, una manifestazione dell'assoluto, del perfetto, dell'idea, dello spirito, della volontà di Dio. L'altro è che la bellezza consiste in un piacere particolare provato da noi e nel quale non entra appunto il sentimento dell'utile. Di questi due principi il primo fu ammesso da Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer e dai metafisici francesi è ancora oggi molto molto diffuso tra le persone colte, specie della vecchia generazione. Il secondo principio che riduce la bellezza a un'impressione individuale di piacere è caldeggiato particolarmente dagli estetici inglesi ed è accolto con favore crescente dalle generazioni nuove della nostra società. Perciò, secondo che era inevitabile, non sono possibili se non due definizioni della bellezza, una oggettiva mistica per cui la nozione del bello si annega in quella della perfezione o di Dio, definizione fantastica e senza fondamento reale, l'altra invece semplicissima e chiarissima ma affatto soggettiva, quella per cui la bellezza si identifica con tutto ciò che piace. Da un lato la bellezza apparisce come qualche cosa di sublime, di soprannaturale ma nel medesimo tempo di indefinito, dall'altro apparisce come una specie di piacere disinteressato provato da noi. Infatti, questo secondo concetto della bellezza è chiarissimo, ma purtroppo è molto inesatto, in quanto esagera nel senso opposto, implicando così la bellezza anche dei piaceri provenienti dai cibi, dalle bevande, dal vestire, dal tatto, eccetera. Soggettivamente ciò che chiamiamo bellezza è senza dubbio tutto quello che ci fornisce un piacere particolare. Oggettivamente parlando, diamo il nome di bellezza a una certa perfezione, ma è chiaro che facciamo così perché il contatto con questa perfezione ci procura un determinato piacere, tal che la definizione oggettiva si riduce a essere solo una nuova forma della definizione soggettiva. Realmente il concetto della bellezza risulta per noi dal godimento di un piacere sui generis. Non c'è una sola definizione veramente oggettiva della bellezza. Le definizioni esistenti, sia metafisiche sia sperimentali, riescono tutte in fondo a quell'unica definizione soggettiva che pretende l'arte essere l'estrinsecazione della bellezza e la bellezza essere ciò che piace senza eccitare il desiderio. Molti estetici intesero l'insufficienza e l'instabilità di una definizione si è fatta e per darle una base solida studiarono le origini del piacere artistico. Così trasformarono la questione della bellezza in una questione di gusto. Ma in ultima analisi si scoperse che il gusto non è più facile a definirsi che la bellezza, perché non c'è né ci può essere alcuna spiegazione compiuta e seria del motivo per cui una cosa piace a uno e dispiace a un altro e viceversa. Quindi l'estetica intiera, dalla sua fondazione sino ai nostri tempi, fallisce in quello che ci potevamo attendere da essa nella sua qualità di pretesa scienza. Non avendoci saputo determinare né la proprietà e le leggi dell'arte, né il bello, né l'essenza del gusto. Tutta codesta famosa scienza dell'estetica consiste in fondo a non riconoscere come artistiche se non certe opere, per l'unico motivo che ci piacciono, e poi ad architettare una teorica dell'arte adattabile per l'appunto a cotali opere. Si comincia dallo stabilire un canone artistico, secondo cui si designano come opere d'arte certe produzioni che hanno la fortuna di piacere a certe classi sociali. Le opere di Fidia, di Raffaello, del Tiziano, di Bach, di Beethoven, di Omero, di Sophocle, di Dante, di Shakespeare, di Goethe, ecc. Dopo ciò le leggi dell'estetica sono aggiustate in modo che abbraccino la totalità di quelle opere. Per definire più correttamente l'arte, fa duopo che si rinunzi a riconoscere in essa soltanto una sorgente di piacere e la si consideri piuttosto come una delle condizioni essenziali della vita umana. Sotto questo aspetto l'arte ci si presenterà immediatamente come un mezzo di comunicazione tra gli uomini. Ogni uomo è capace di provare tutti i sentimenti umani, mentre non ogni uomo sa esprimerli tutti quanti. Ma se uno, per mezzo dell'udito o della vista, percepisce i sentimenti d'un altro espressi a dovere, può provarli in sé stesso, anche trattandosi di sentimenti nuovi per lui. Il genere umano avanza nel progresso innalzandosi da un concetto inferiore, parziale e oscuro della vita ad altri più elevati, più comprensivi, più chiari. In codasto movimento del progresso, come in tutti i movimenti, gli uomini sono guidati da certi loro capi che intendono meglio degli altri il significato della vita. E tra codasti precursori ce n'è sempre qualcuno che ha espresso il suo concetto personale più chiaramente o più fortemente degli altri, tanto a parole quanto con l'esempio. La determinazione impressa al significato della vita da qualche uomo simile, accompagnata dalle tradizioni, dalle superstizioni, dalle cerimonie che circondano sempre la figura dei grandi, è il costitutivo essenziale delle religioni. Esse rispecchiano il concetto che si formano della vita gli uomini migliori e più intelligenti di una data età e di una data società, il quale finisce per essere irresistibilmente adottato dalla società intiera. Perciò in tutti i tempi le religioni valsero a darci la misura dei sentimenti umani, quelli per cui l'uomo si accosta all'ideale proposto dalla religione e che armonizzano con esso, vengono ritenuti buoni e cattivi quegli altri che allontanano l'uomo dall'ideale della sua religione. La onde se, come presso gli antichi ebrei, la religione fa consistere il fondo della vita nell'adorare un Dio solo e sottomettersi alla sua volontà, i sentimenti di obbedienza alla legge divina sono riputati buoni e danno luogo all'arte buona rappresentata dalle profezie, dai salmi, dall'epopea della Genesi. E si considera come arte cattiva tutto ciò che si oppone a quell'ideale, come a dire l'espressione di un culto verso divinità straniere e gli altri sentimenti incompatibili con la legge di Dio. Invece nel caso dei greci, quando la religione spiega il significato della vita riponendolo nella felicità terrena, nella forza e nella bellezza, si considera arte buona quella che esprime l'allegrezza e l'operosità della vita, e cattiva quella che ispira sentimenti di mollezza o di avvilimento. Il significato della vita, essendo riposto, come presso i romani, nel collaborare alla grandezza della nazione, o come presso i cinesi, nel rendere onore ai maggiori e perpetuare il loro genere di vita, si reputerà naturalmente arte buona quella che esprime la gioia del sacrificio personale per il bene della nazione, oppure il rispetto verso gli antenati e il desiderio di imitarli. E cattiva ogni arte che ribandisca sentimenti opposti. Quando poi il significato della vita sta, come presso i buddhisti, nel liberare l'uomo dal gioco dell'animalità, sarà buona l'arte che innalza l'anima deprimendo la carne, e cattiva quella che preconizza sentimenti atti a favorire le cupidigie materiali. In ogni età e in ogni società vige un senso religioso comune a tutti del buono e del cattivo, e serve di stregua a giudicare del valore dei sentimenti espressi dall'arte. Così avveniva presso gli ebrei, i greci, i romani, i cinesi, gli egiziani, gli indiani, e così fu anche tra i primi cristiani. Il cristianesimo dei primi secoli non riconosceva per arte buona che le leggende, le vite dei santi, i sermoni, le preghiere, gli inni, tutto quello che esprimeva l'amore per Cristo, l'ammirazione per la sua vita, il desiderio di imitarlo, la rinunzia ai piaceri del mondo, l'umiltà, la carità. E tutte le opere artistiche ispirate a sentimenti di godimento individuale erano ritenute cattive e perciò condannate. Soprattutto la plastica non era ammessa che col valore di simbolo, ed era condannata tutta l'arte pagana. Così facevano i primi cristiani che concepivano la dottrina di Cristo, se non del tutto nel suo vero senso, almeno sotto una forma diversa da quella corrotta e paganizzata che rivestì più tardi la medesima dottrina. Ma a lato di quel cristianesimo a poco a poco se ne formò un altro, dipendente dalla Chiesa e più prossimo al paganesimo che non alla dottrina di Cristo. Ecodasto cristianesimo di Chiesa, conseguentemente alle sue dottrine, cominciò a stimare ben altrimenti le opere d'arte. Poiché ai principi essenziali del vero cristianesimo, che sono lo stretto rapporto di tutti gli uomini con Dio, la perfetta uguaglianza e fraternità di tutti gli uomini, l'umiltà e l'amore in luogo della violenza, avendo sostituito una gerarchia celeste analoga alla mitologia pagana, avendo introdotto nella religione il culto di Cristo, della Vergine, degli angeli, degli apostoli, dei santi, anzi anche delle loro immagini, diede vita a un'arte che esprimeva alla meglio questo nuovo ideale. Codasto cristianesimo era di certo lontanissimo dalle dottrine di Cristo e inferiore persino al concetto che avevano della vita certi romani, quali furono gli stoici o l'imperatore Giuliano. Ciò non di meno, fra i barbari che raccoglievano rappresentava sempre alcunché di superiore al loro antico culto di dai ed eroi nazionali, di spiriti buoni e cattivi. E l'arte rampollata da questa religione esprimeva l'amore per la Vergine, per Gesù, per i santi e gli angeli, la cieca obbedienza ai dogmi, la paura delle pene d'inferno e la speranza dei gaudi celesti e ogni arte in opposizione con quella era creduta cattiva. Quell'arte, sebbene fondata sopra un tralignamento del cristianesimo, era arte vera perché corrispondeva al concetto religioso degli uomini tra i quali fioriva. Gli artisti del medioevo, attingendo i loro sentimenti alla sorgente popolare e rendendoli con l'architettura, con la pittura, con la musica, con la poesia e col dramma, erano veri artisti e le loro opere, secondo l'ufficio delle opere d'arte, trasfondevano i loro sentimenti in tutta la comunità che li circondava. Così procedettero le cose, finché le classi nobili, ricche e colte della società europea, cominciarono a dubitare che non fosse vero il concetto della vita espresso nel cristianesimo ufficiale. Allorché dopo le crociate e il culmine della potenza dei pappi, quelle classi poterono attingere al senno degli autori classici e riconobbero, da una parte, il buonsenso e la chiarezza degli insegnamenti greci, dall'altra l'incompatibilità della dottrina ecclesiastica con le massime di Cristo, trovarono impossibile continuare a credere nella dottrina della Chiesa. Tuttavia rimasero in apparenza ligie alle forme ecclesiastiche, ma solo per inerzia o per conservare la loro influenza sul popolo che nulla aveva perduto dell'antica fede e obbedienza. In realtà il cristianesimo ecclesiastico aveva cessato di essere la dottrina religiosa comune a tutti i cristiani e le classi più colte si trovarono nella condizione dei romani colti prima del cristianesimo. Non ammettevano più la religione delle turbe senza essere in possesso di alcun'altra fede che potesse sostituire per loro la dottrina della Chiesa che avevano abbandonata. Ci furono sì dei ricchi che, come Francesco d'Assisi, ammisero la dottrina di Cristo nel suo pieno significato e con tutte le sue conseguenze e le sacrificarono i loro privilegi sociali. Ma la maggior parte delle persone appartenenti alle classi più elevate, sebbene alienate alle dottrine della Chiesa, non vollero né poterono seguire quell'esempio perché l'essenza del vero cristianesimo consisteva nell'ammettere la fratellanza e quindi anche l'uguaglianza di tutti gli uomini, cosa che avrebbe distrutto i privilegi che erano avvezzi a godere. E questi membri delle classi superiori, papi, re, ducchi e tutti i grandi della terra, rimasero così senza vera religione e si contentarono di conservare le forme esteriori di una religione le cui dottrine giustificavano i privilegi cari a loro. E furono precisamente costoro che, essendo dotati di potere e di ricchezza, pagavano e dirigevano gli artisti. E tra costoro, appunto, si noti bene, sorse un'arte novella che si misurava non più secondo la sua capacità a esprimere i sentimenti religiosi del tempo, ma secondo la bellezza, cioè il piacere che poteva procurare. Codesti ricchi e potenti, essendo oramai nell'impossibilità di credere a una religione riconosciuta falsa, come pure di ammettere il vero cristianesimo che condannava il loro modo di vivere, furono senza volerlo ricondotti al concetto pagano che riponeva nel piacere personale il significato della vita. Allora, tra le classi più elevate, sorse quello che è chiamato il rinascimento delle lettere e delle arti. Infatti, l'età del rinascimento rappresenta un periodo di scetticismo completo nelle classi superiori. Privi com'erano di fede religiosa e di ogni norma per distinguere l'arte buona dalla cattiva, gli uomini di quelle classi adottarono la stregua del piacere personale. E una volta ammesso che il piacere, in altri termini la bellezza, fosse il criterio, si trovarono contenti di aggrapparsi al concetto artistico, in fondo grossolano, dei greci antichi. La loro nuova teorica dell'arte defluì direttamente dal loro nuovo modo di intendere la vita. Se i greci in realtà non distinguevano nettamente il buono dal bello, ciò dipendeva dal loro concetto morale della vita. Non avevano alcuna idea chiara di quella somma perfezione morale distinta dalla bellezza artistica, spesso in opposizione con essa, che, già presentita da certi profeti ebrai, fu poi pienamente tratteggiata nella dottrina di Cristo. Essi immaginavano che il bello dovesse necessariamente anche essere il buono. Soltanto i loro più grandi pensatori, come Socrate, Platone, Aristotele, sentirono che la bontà non coincide sempre con la bellezza. Socrate subordinava di proposito la bellezza alla bontà. Platone, per unire i due concetti, discorreva di una bellezza spirituale. Aristotele esigeva che l'arte esercitasse con la catarsis, purificazione, un'influenza morale. Ma all'infuori di codesti savi, gli altri ammettevano la concordanza intiera del bello e del buono. E così si spiega che nella lingua dei grecianti, chi un composto, calacagaton, cioè bello e buono, abbia servito a disegnare quella concordanza. Ciò non era che il risultato di una cultura incompiuta, la semplice confusione di due concetti ben distinti. Ora, gli estetici del Rinascimento vollero elevare codesta confusione a dignità di legge. Pretesero dimostrare che il sovrapporsi della bellezza e della bontà dipende dalla natura delle cose ed è necessario e che il senso della voce calokagaton, che se valeva per i greci non poteva valere per i cristiani, rappresenta l'ideale più alto del genere umano. Tutta la nuova estetica si aggira sopra questo equivoco e la sua pretensione di rifarsi all'estetica dei greci è tutt'altro che giustificata. Se qualche teoria serve a giustificare la falsa posizione in cui vive una classe della società, per quanto si mostri infondata e apertamente falsa, è accolta da quella tal classe della società come articolo di fede. Questa sorte ebbe, per esempio, la celebre e assurda dottrina del Malthus, con la quale si sosteneva che la popolazione della Terra si accresce in proporzione geometrica e i mezzi di sussistenza crescono solo in proporzione aritmetica. Quindi essere inevitabile un affollamento eccessivo della Terra. Lo stesso è avvenuto della teoria derivata dalla Malthusiana che scorge il fondamento del progresso nella selezione e nella lotta per la vita. Ed è ciò che succede ancora della dottrina del Marx, che ci rappresenta come legge fatale e inevitabile la distruzione graduale della piccola industria privata per opera della grande industria capitalista. Queste dottrine possono ben mancare di ogni fondamento, opporsi a tutte le certezze, a tutte le speranze del genere umano, essere scioccamente e bruttamente immorali. Tuttavia si accolgono senza sforzo, si insegnano senza discussione, talvolta per parecchi secoli, finché non siano scomparse le condizioni sociali che esse valevano in certo modo a giustificare.